Buongiorno a tutti, buongiorno e benvenuti a questo appuntamento con la resegna stampa. Oggi è mercoledì 28 ottobre 2015. Cominciamo dal santo del giorno. Oggi sono santi, anzi, sono i Santi Simone e Giuda, apostoli. Il sole è sorto alle 6.38, tramonterà alle 17.06. La temperatura di questa mattina è alle 7.30 di 12 gradi. Il tempo lo vedete in questa immagine fuori dalla nostra sede di via Paolo Borsellino a Fano. Tempo nuvoloso con foschia. Oggi è prevista pioggia, infatti, anche dalla Protezione Civile delle Marche, che prevede precipitazioni diffuse, prevalentemente di debole intensità, più abbondanti nel settore settentrionale della regione. Le temperature sono in aumento nei valori minimi. Eventi deboli da sud-est. Il mare inizialmente poco mosso, ma con molto ondosi in aumento. Attenzione alle foschie e ai locali banchi di nebbia. Per domani, giovedì 29 ottobre, ancora giornata nuvolosa con precipitazioni sparse, localmente anche a carattere di rovescio. In aumento le temperature nei valori minimi. Lieve diminuzione nei valori massimi. Eventi sono deboli. al più moderati. Il mare sarà mosso o molto mosso. Ma poi, vedete, venerdì le cose cominciano a cambiare, soprattutto sulla costa, ma avremo comunque cielo parzialmente nuvoloso anche nella mattinata. Dal pomeriggio, invece, sono previsti solo precipitazioni nell'entroterra. Poi il tempo andrà a migliorare. Infatti, il tempo sarà stabile nelle Marche, almeno fino a gran parte della prossima settimana, con temperature in lieve diminuzione. Allora, ci sono quattro medici indagati sulla morte di quella donna di 60 anni di Fano che è morta durante una trasfusione al Torrette di Ancona. Di questo si parla sui quotidiani questa mattina, la pagina del Corriere Adriatico. Eccola qua. Quattro medici indagati, si fa l'autopsia, cooperazione in omicidio colposo e l'ipotesi del PM a carico dei sanitari di gastroenterologie e malattie infettive. Il decesso durante una trasfusione. Inviati gli avvisi di garanzia per l'esame sulla salma che è previsto per domani. Intanto il Corriere pubblica la foto di Giuseppe Apisanelli, 60 anni, che è deceduta, come abbiamo detto, all'ospedale di Torrette. I familiari sotto sciocco ora chiedono chiarezza e giustizia. Restiamo su questa pagina. Acqua pubblica, seri, predica bene ma razzola male. La consigliera di Forza Italia, Cucuzza, segnala che il sindaco si è dileguato nell'assemblea consortile del lato prima del voto decisivo. C'è un disegno del PD che vorrebbe dare al Comune di Pesaro e alla provincia il potere di decidere per tutti. Sul dragaggio, via al secondo step, con il ribasso d'asta finanziata l'estrazione di 10.000 metri cubi di materiale. Un terzo intervento è previsto all'imboccatura. La sabbia sarà usata per rimpinguare le spiagge. La pagina delle Marche invece ci dà una buona notizia, soprattutto per chi usa l'olio, verrebbe da dire quello buono, insomma, il nostro olio, quello locale. Il raccolto ricco per la rivincita delle olive si punta al 30%, una produzione da 20 milioni di euro per quasi 22.000 aziende con 160 frantoi attivi. Dunque la mosca assassina che ha fatto danni enormi l'anno scorso, quest'anno è stata resa innocua dal caldo estivo. Solo alcune piante esposte a nord-est nel momento della legatura hanno sofferto la bora. Tra extra, DOP e IGP siamo al top di gamma. L'importante è tenere tocchio l'etichetta. La pagina di Pesaro del Corriere nella macro-regione, spazio alla San Bartolo, allo studio un progetto pubblico privato di valorizzazione della storia, della cultura e del paesaggio. Si punta ad ottenere il riconoscimento di denominazione comunale per le peculiarità del sito. A Senigallia crolla il soffitto, paura in un negozio. Oltre alla titolare di Bottega Verde c'era una cliente con il figlio di 7 anni. Vetrine in frantumi e pannelli sul pavimento. Ho sentito, dice e racconta un boato. Siamo salvi per miracolo. La pagina di Pesaro del messaggero in evidenza, la fotografia di Valentino Rossi che saluta, vale l'orgoglio più forte della rabbia. Rossi ringrazia i fan che l'hanno sostenuto e si dice pronto a pensare a Valencia. E nella sua terra le reazioni di solidarietà continuano. La mobilitazione per Rossi finisce addirittura in Regione. No alla teoria gender a scuola. Il Consiglio boccia la mozione. È stata bocciata all'Assemblea legislativa con 9 voti favorevoli, 15 contrari e 3 astenuti. La mozione che era stata presentata dalla consigliera Elena Leonardi di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale per chiedere alla Regione Marche di non introdurre nelle scuole della Regione la teoria gender. Sempre sul messaggero, dalle pagine di Pesaro, via libera al progetto del Pala Scavolini. Il vecchio hangar rinascerà con un investimento di 3 milioni e mezzo di euro. potrà ospitare fino a mille spettatori per il ROF e 2.500 per lo sport. Il sindaco Ricci dice che eravamo partiti dall'idea di una risistemazione vintage, ma è diventata una ristrutturazione di grandissima qualità. L'altra pagina invece si occupa dell'ospedale. Il nuovo ospedale è quello che dovrebbe sorgere dove non lo sappiamo. Però adesso bisogna stringere i tempi e soprattutto decidere in quale luogo il sito. Bisogna decidere il posto dove costruire questo ospedale. Scontro tra capoluoghi. Nel braccio di ferro tra Pesaro e Fano sulla scelta del sito si mette di mezzo urbino, contraria all'ipotesi di Muraglia. Oggi e domani Ricci sarà all'Assemblea Anci di Torino e conta di avviare un confronto con il collega di Fano, Massimo Seri. Sulle fusioni, campagna al via, traccene, assemblee e anche un ricorso al TAR. Saranno 45 giorni di fuoco per il referendum del 13 dicembre, ma il rischio estensionismo nei quattro comuni coinvolti è alto. La pagina di Fano invece, addio al porto insabbiato, partiti gli ultimi lavori. Il nuovo dregaggio riguarderà in Bucco e darsena dei pescherecci. Poi ci si sposterà Marina dei Cesari per l'intervento finanziato dai privati. Il sindaco Seri si impegna per la costituzione di un consorzio in grado di garantire continuità ed efficacia alla manutenzione. L'assessore Paolini, l'assessore dei lavori pubblici, la vera soluzione però sarebbe quella di diversificare la foce del canale Albani. E adesso apriamo invece il resto del Carlino. La pagina di Pesaro, eccola qua, la foto gigante per la remontata in piazza. Sindaci pronti, quasi certi due maxi schermi, uno a Tavuglia e uno a Pesaro per sostenere Valentino Rossi nell'ultima giornata del MotoGP. E anche Don Cesare lo benedice. La Ferretti ha i bilanci deboli, il curatore chiede il fallimento. Iniziativa shock per la nota multinazionale nautica, ormai in mano ai proprietari cinesi. Sotto invece la cronaca con la mano finisce nel tritacarne, quattro dita tranciate ad auditore. Gravissimo infortunio di un operai di 51 anni, arriva anche l'eliambulanza. La pagina di Fano invece racconta di clienti che sono rimasti fuori dalla palestra, la Faster Fit di Gimarra perché ha chiuso i battenti. La Faster Fit chiude i clienti al palo, protesta davanti alle porte della palestra di lusso a Gimarra e ora chi ci ridarà i soldi? La gente infatti ha continuato a fare abbonamenti anche per tutto l'anno. E questo è qui la scorrettezza probabilmente registrata anche dall'amarezza dei clienti che abbiamo intervistato anche ieri e vi abbiamo trasmesso nel telegiornale di ieri sera. La scorrettezza è quella di aver fatto abbonamenti fino all'ultimo giorno in fretta e furia. Ecco questa è una cosa che sinceramente non va. Le crepe già da un mese, i campanelli d'allarme, infatti nell'ultimo mese le cose non andavano. In questa palestra che per tutti è rimasta l'extraspa, anche se poi da un mese si chiamava in un altro modo. Prima la calda è rotta, scrive il Carlino, poi le sale deserte, le luci spente anche in orario di apertura, i muri scrostati, insomma evidenti infiltrazioni d'acqua. Insomma le cose non andavano e qualcuno aveva già visto che qualcosa non funzionava. Ferrovie, la fanurbino non deve essere frazionata, resti un bene pubblico. Il consigliere regionale Biancani interviene sui progetti. Il dragaggio del porto avanti tutta, 25 mila metri cubi già previsti, se ne aggiungeranno altri 13 mila. Poi morto a Urbino il fisioterapista Paolo Grini, l'uomo è stato soccorso dalla moglie che è medico, si è sentito male al lavoro, aveva 58 anni ed era appunto uno stimato fisioterapista dell'ospedale di Urbino e del centro Salus di Montecchio, dove si trovava proprio nella serata dell'altro ieri quando ha accusato il primo malore. Lo vedete in questa fotografia. Sotto invece delusione, nell'entroterra, l'ipotesi della ciclabile sulla ferrovia Fano-Urbino. E poi l'ultima pagina del resto del Carlino, una detta alla pasta fresca, si trancia a quattro dita nel Tritacarne, una dipendente 51enne della ditta Salucci, trasportata d'urgenze nelle ambulanze ad Ancona. Poi sotto la politica, Fossombrone, Baldelli dice alla Lega giochiamoci la partita, non aiutiamo il Partito Democratico. Il sindaco di Pergola replica la dura presa di posizione e rilancia una ipotesi di alleanza. La rassegna stampa finisce qui, grazie per averci seguito. Questa sera, come sempre, ne avete tretto il telegiornale e subito dopo, invece, in diretta, primo cittadino ospite, ci sarà il vice sindaco di Fossombrone, lo vedete in questa immagine, Michele Chiarabilli. Con lui, appunto, potrete intervenire, quindi tutti quelli che abitano Fossombrone, che ci seguono in tantissimi da Fossombrone, possono intervenire in diretta e fare domande al vice sindaco sulle cose che non vanno e magari chiedere informazioni. Noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, buona giornata. Grazie a tutti.